Si trova in gravi condizioni l'autista del tir coinvolto nell'incidente a Binasco in provincia di Milano questa mattina, accaduto poco dopo le ore 7. Il traffico era ancora paralizzato dopo alcune ore lungo la strada statale 35 e la provinciale 40, questo per diversi chilometri. Il motivo dei pesanti rallentamenti è proprio il grave incidente avvenuto alle prime luci dell'alba alla rotonda del McDonald di Binasco. Le cause sono ancora in fase di accertamento ma quel che è certo è che un mezzo pesante, un camion della società autotrasporti linda adibito al trasporto di carichi eccezionali, come spiega la nota dei vigili del fuoco, si è scontrato con altre vetture. Sono rimaste coinvolte tre persone, due donne di 24 e 51 anni e un ragazzo di 25. Uno dei feriti pare proprio l'autista del tir che si trova in gravissime condizioni e che è stato portato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano. L'uomo lotta tra la vita e la morte. Il mezzo pesante si stava immettendo nella rotonda quando ha causato l'incidente, forse anche a causa della fitta nebbia che questa mattina è salita a Binasco. La frenata, violentissima, ha piegato la cabina facendo finire il carico proprio all'interno del posto del guidatore. Il carico del tir era composto da alcuni pilastri in cemento armato. Uno di questi si è spostato terminando nella cabina del mezzo e incastrandoci l'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, tre squadre dei vigili del fuoco per cercare di estrarre l'autista, la polizia locale e tre ambulanze e un'auto medica inviate dal 118. Come detto, l'uomo è ancora in codice rosso e lotta tra la vita e la morte.